Eccoci di nuovo qui, stavolta per parlare di Agostino, o per i credenti Sant'Agostino, con un po' di ansia da parte mia, perché è un personaggio, un filosofo e un teologo al tempo stesso che ovviamente amo molto. È stato forse il primo grande pensatore cristiano, se non prendiamo in considerazione i padri della Chiesa, cioè i primi teologi che cercano di trasformare dal punto di vista della ragione la rivelazione dei Vangeli e anche di San Paolo. Ma quello che affascina di più in Agostino è che egli è un grande convertito. Pensate che la frase delle confessioni, che sono il suo testo più bello, le confessioni, cioè in cui lui confessa, rivela se stesso, una sorta di autobiografia, è questa. Tardi ti amai, bellezza infinita, bellezza così antica e così nuova. Per Agostino amare Dio e amare la verità era un'unica cosa e soprattutto questo Dio verità era un Dio bello, più che potente, più che infinito, più che onnipossente, era bello, era una bellezza per lui amata troppo tardi. Agostino ha parlato per tutta la sua vita, durata circa 80 anni, col cuore e con la ragione, ma la grandezza di Agostino è che egli ha parlato come un innamorato. Noi parliamo qui di un filosofo innamorato della saggezza, della sapienza e di un teologo innamorato di Dio. Un'altra sua frase molto bella, riportata nelle confessioni, da citare all'inizio in latino, cor nostrum inquietum, donec requiescat in te. Il nostro cuore è sempre inquieto finché non si riposi in te. Nel mondo della filosofia, d'altra parte, nel complesso mondo di tanti secoli della filosofia ci sono stati tanti amori, amori prevalentemente intellettuali, alcuni filosofi hanno avuto anche amori sensuali, pensiamo a Kierkegaard, a volte accettati, a volte rifiutati. Ecco qui in Agostino abbiamo un grande amore per Dio, che dunque per Agostino tutto era meno che, come per la tradizione precedente o quella successiva a lui, non era un motore immobile, come per esempio lo è stato per Aristotele, non era un probabilmente indifferente barra impotente essere che assisteva alle vicende degli uomini come per Epicuro e non era nemmeno, come poi fu per Feuerbach, un dovere morale di staccarsene per essere più padroni di se stessi per uno come Feuerbach che inaugurò l'ateismo. La dottrina filosofica di Agostino è una cosa sola con tutta la sua vita e d'altra parte occuparsi della sua vita non è pura cronaca, ma è credere che ogni posizione ferma nella storia del pensiero, ogni elaborazione mentale geniale è anche frutto di un'esperienza fatta e quindi anche della propria esistenza concreta. La vita di Agostino si divide in due parti, c'è la prima parte della vita che è abbastanza determinante, lui nacque da una donna cristiana Monica, da un padre pagano Patrizio, nacque nel 353 d.C. a Tagaste, una regione della Numidia, l'attuale Algeria, ecco perché Agostino è considerato il Numida. Un tempo di grande incertezza, il tempo della sua nascita, l'impero romano stava ormai quasi alla sfissia, regnava allora Costanzo II che era il figlio di Costantino e pensate che Agostino quando parlerà da convertito e da vescovo poi di Ippona, con questo incarico infatti concluse la sua vita, affrontò per ben due volte le popolazioni barbariche che venendo dal nord dell'attuale Europa minarono, minacciarono e poi di fatto conclusero o contribuirono alla conclusione dell'avventura dell'impero romano. Una volta le guardò un po' da lontano, in maniera distantemente intellettuale, quando essendo Papa San Leone Magno nel 410 assistette alla distruzione, anche se non totale, di Roma da parte dei visigoti di Alarico. Una seconda volta di persona quando egli stesso alle porte di Ippona affrontò i vandali che la cerchiavano, stavolta però in questa occasione Agostino usò una maggiore diplomazia. Agostino però va ricordato anche per le sue avventure intellettuali, perché fu un grande intellettuale, all'inizio studiò finanziato da un amico di famiglia retorica a Cartagine, per le sue avventure amorose. A 18 anni Agostino si unirà una donna di cui non ci è dato di conoscere il nome, da cui però nacque un figlio che poi si convertì come lui e che chiamarono Adeodato e soprattutto per le sue avventure esistenziali. Infatti per più di un anno Agostino fu Manicheo. Che significa Manicheo? È un nome un po' complesso perché deriva dal nome proprio di Mani. Mani era un predicatore iraniano del III secolo che fondò, elaborò questa filosofia detta dal suo nome Manicheo e fondò anche la setta. Una dottrina sconnessa ma rigidissima che prevedeva due divinità, due sostanze in lotta tra loro, il bene e il male, attenti non una opposta all'altra, ma proprio due individualità, il bene e il male uguali tra loro con poteri simili che soffiavano sul collo dell'individuo. Con diversi atteggiamenti, ispirando all'individuo diversi atteggiamenti, il bene per i Manichei risiedeva tutto nella parte spirituale, il male tutto nella parte materiale e quindi c'era un grosso disprezzo per la materia da cui poi Agostino si liberò. Anche in questa setta c'erano serratissime gerarchie, una distinzione netta soprattutto duplice, c'erano gli eletti che erano quelli che erano già avanti, avevano fatto secondo la dottrina Manichea morire la carne dentro di loro attraverso una rigorosissima ascesi e gli uditori che erano in una fase ancora purgante, diciamo di purgatorio, di cui Agostino finché rimase Manicheo fece parte. Ma non è finita perché gli eletti erano talmente eletti, eletti vuol dire scelti, quindi diciamo molto alti nella gerarchia, che potevano quasi divenire Dio vincendo se stessi nell'approccio alla materia. E questo divenire Dio è per la fede cristiana un divenire eretico perché nessuno può divenire Dio, anche i Santi non sono Dio, anche la Madonna non è Dio, sono esseri umani di cui è stata riconosciuta la grandezza, nella fede, nella speranza e nella carità. Ecco perché questa gerarchia si riproponeva poi nella vita pratica. Gli eletti per esempio vivevano una sorta di ozium condignitate, cioè non lavoravano, non facevano niente, mentre gli uditori gli dovevano servire. D'altronde i Manichei pensavano che Gesù Cristo stesso non avesse preso la carne, ma sembrava aver preso la carne. Questa era un'antica eresia chiamata il docetismo, secondo cui dal verbo greco docheo, che significa sembrare, Cristo aveva preso una sembianza della carne, ma non era incarnato e si era così preso a gioco degli umani. Quindi era finta la morte del Cristo, come faceva a morire uno che non aveva la carne, e finta la resurrezione. Quando Agostino uscì dai Manichei si liberò di alcune cose. La prima cosa si liberò di questa dottrina che negava totalmente il libero arbitrio. È chiaro, se c'è un Dio cattivo che ci guida al male, io non sono colpevole, non sono responsabile, sono quasi teleguidato al male, perché c'è un Dio che mi ci guida, sono come un predestinato, come poi dirà Calvino. La seconda cosa di cui si liberò si liberò dalle credenze astrologiche di questa setta, in una dinamica in cui non sei tanto tu a scegliere, appunto non hai la tua responsabilità, ma gli oroscopi vari e tutte le credenze astrologiche hanno un influsso devastante e determinante sulle tue scelte. La terza cosa di cui si liberò, si liberò della concezione materialistica di Dio, che per Imanichei non era una luce che diffondeva il bene, ma covava nel suo seno appunto il principio antagonista e maligno. E la quarta cosa di cui si liberò Agostino, l'ultima, si liberò proprio dalla dottrina del male come entità reale, cioè il male non come la contrarietà del bene, l'opposizione del bene, ma un male che era tra l'altro sempre nelle attività materiali, in particolare in quelle sessuali, oppure nel vino, come dicevano i manichei, però invece c'era una materia che loro amavano, il melone, il cocomero, che erano tutti frutti dei bei colori, che avevano secondo i manichei particelle di luce aggregabili alla sostanza divina. Quando uscì dal manicheismo Agostino si liberò di tutte queste stupidità. Alla prossima!